Ciao raga, ottavo episodio del Iggy risponde, visto che abbiamo un mese di pausa e c'è tempo da dedicare alla community ho deciso di farlo e quindi una volta a settimana, precisamente mercoledì da qua all'uscita del capitolo porterò questo format che non avevo interrotto ma a volte avevo tralasciato perché comunque i capitoli erano impegnativi c'era tanto da parlare e quindi se volete partecipare anche voi a questo format se già non lo fate seguitemi su Iggy perché io una volta a settimana apriò il box domande che poi riceveranno quelle intelligente, quelle sensate riceveranno risposta qua, iniziamo subito è possibile che Im abbia fatto credere ai Gorosei di essere Joy Boy? sì, perché no, nel senso, noi comunque non sappiamo ancora bene che cosa sia successo 800 anni prima quindi non sappiamo neanche quanto i Gorosei possano essere influenzabili dalla storia e se qualcuno che la storia la conosce, quale potrebbe essere Im? sarebbe anche capace, o almeno penso, di giocarsela a suo modo e influenzare le scelte dell'intero governo e più precisamente dei Gorosei e adesso lo sappiamo dei Cavalieri di Dio ma non deve per forza dire o far credere di essere Joy Boy potrebbe tranquillamente aver fatto qualcosa per aver spaventato i Gorosei o magari per avergli fatto credere che Joy Boy fosse l'impostore comunque in qualche modo averli intortati per andare a suo favore o semplicemente il suo potere è così grande che fa paura a tutti, quindi tutti zitti e pedalare i Sicari di cui parlava Doflamingo ad Impel Down, saranno i Cavalieri di Dio? molto probabile, tutto sta a capire quando Oda questi Cavalieri l'ha creati perché comunque c'è ancora l'enigma ma cosa facevano quando Fisher Tiger ha salvato gli schiavi? non erano affari dei Draghi Celesti, non erano affari di Mary Joa quindi in quel modo dobbiamo ancora capire come poi Oda se la giustifica o se ha voglia di giustificarla però ipotizziamo che sia così probabilmente sì, probabilmente sì e lui potrebbe conoscerli perché comunque faceva parte dei Draghi Celesti visto che i Cavalieri di Dio si occupano degli affari interni dei Draghi Celesti va da sé che lui li conosce perché allora uno potrebbe chiedersi perché non sono mai andati a Dressrosa perché non lo hanno fermato prima perché comunque sarebbe stata guerra aperta avete visto i Mugiwara in quanti hanno dovuto tirare giù Doflamingo e poi l'hanno tenuto a bada facendolo entrare nella flotta dei Sette e io sono sicuro che c'è ancora una frase che mi ronza nella testa quando lui cerca di uccidere Moria o comunque taglia la gamba a Moria Moria gli dice chi è stato a darti l'ordine e lui dice qualcuno di più in alto cioè come dire ho qualcuno ancora che parla con me però una volta che è stato catturato lui si riteneva tra virgolette inutile sapeva di un segreto e quindi riteneva probabile la sua uccisione tramite dei sicari che potevano essere proprio loro Allo stato attuale credi che nel 1087 si tornerà su E-Gaid o si continuerà da Dragon? Io ne avevo già parlato di questa cosa più attesa c'è più tempo passa dal ritorno ad E-Gaid più questo non può essere un ritorno scam perché comunque adesso addirittura torniamo torneremo da un mese di pausa quindi rivedere dopo un mese i Seraphins che corrono Luffy che li rincorre Zoro che si perde quelli fuori dalla costa la gente che scappa sinceramente sarebbe un ritorno di capitolo brutto ma davvero brutto e noioso perché diciamocela tutta E-Gaid su certi lati non sta brillando non ha brillato poi io ho difeso E-Gaid su certe critiche ma su altre però tendo sempre ad aspettare fine saga per dare un giudizio definitivo quindi avevo pensato che sì se torniamo ad E-Gaid dobbiamo tornarci con un mega plot twist o comunque con una scena epica con lo sbarco del Gorosei con qualcosa che comunque ci dica wow che bel capitolo come siamo tornati o così o si sta ancora da Dragon sì eh sì a questo punto sì questa domanda è bellissima ma nel mondo di One Piece si parla una sola lingua? sono arrivato fino all'episodio 500 guarda dove tu sia arrivato tecnicamente poco importa sì diciamo che in One Piece c'è una lingua universale l'unica diciamo seconda lingua che noi conosciamo è quella dell'antico regno quella che è presente scritta nei Pony Griff ad esempio quella che Robin sa leggere quella che in pochissime al mondo sanno leggere perché ormai sono passati 800 anni ed è stata praticamente occultata distrutta e cancellata quella lingua ma poi anche un discorso di convenienza narrativa ve lo vedete Luffy che va in giro e cerca di imparare varie lingue nel mondo la vedo dura eh la vedo dura poi non lo possiamo sapere se nell'intramanga parlano lingue diverse però non dovrebbe essere così Inegade chi è che potrebbe andare là a fare casino addirittura morire Vegapunk Inegade penso che diciamo oltre a quelli che mancano nelle zatteri di Teach che stanno arrivando sulle coste dovremmo avere un quadro completo non penso che arriverà altra gente dobbiamo capire chi c'è su quelle zatteri perché se c'è gente come Lafite Catherine Devon potrebbero essere soltanto operazioni di spionaggio se ci fossero gente come Barge Stitch o chi altro allora potrebbero essere azioni belle pesanti dipende quali personaggi arriveranno potremmo forse azzardare all'arrivo della flotta di Mugiwara che io a inizio saga ritenevo probabile quando abbiamo letto di un incidente però adesso un po' meno però comunque fattibile perché potrebbero davvero scatenare un incidente e questo incidente potrebbe che ne so portare alla morte di Vegapunk per sbaglio e poi si dà la colpa a Luffy alla morte di un ammiraglio perché no non è così difficile da pensare la morte di un Gorosei lì sì che sarebbe un incidente poi quello che succederà è l'ipotetica morte comunque se Luffy dice di voler proteggere un personaggio quel personaggio lo protegge e l'errore che ha fatto tra virgolette errore che ha fatto Amariford con Ace non lo vuole più ripetere quindi penso che Vegapunk non muoia a meno che non si vuole dare un'altra crescita al personaggio Luffy secondo te in che modo potranno evolversi i poteri degli altri strads fruttati e non allora i possibili power up sono sempre stati anche nel post Wano ma anche già Wano un argomento di discussione allora Nami secondo me per adesso ha solo bisogno di una narrazione migliore tutto qua quindi Zeus va bene Zeus se lo usi bene funziona poi magari piano piano diventerà ancora più forte ci mancherebbe allora Lucky secondo me l'utilizzo dell'Aki da parte di tutti sarebbe una possibilità e sarebbe un qualcosa di giusto e decente per molti personaggi Usopp ho sempre pensato a far fruttare la sua arma la Kabuto sarebbe molto interessante capire quale frutto Franky comunque qualche nuova tecnologia di Vegapunk si pensava all'algamatolite marina ma sarebbe troppo overpower diciamocela tutta quello va con l'algamatolite un corpo fatto di un'algamatolite tocca un avversario fruttato vabbè sarebbe interessante ma non so se è fattibile Robin secondo me appunto deve solo usare l'Aki non so se l'ha usato quella volta lì ma la certezza dell'utilizzo dell'armatura per Robin sarebbe devastante attacchi da lontano con l'Aki puoi toccare tutti i fruttati loggia sarebbe devastante per gli altri diciamo i classici piccoli miglioramenti che si fanno in ogni saga migliori un po' di quello un po' di quello un po' di quello e sei a posto per adesso l'arma ancestrale è stata usata per la prima volta sull'Ulusia quindi God Valley però chi ti ha detto che quella è un'arma ancestrale ragazzi dobbiamo imparare a non dare per certe certe cose perché posso dirlo se un creator dice una cosa non è quella cioè nel senso non è che se un creator fa un video e dice quella era Uranus allora era Uranus davvero ragazzi non siamo Oda non siamo la voce della verità non siamo il manga diamo delle opzioni diamo delle opportunità delle possibilità e poi sarà l'utente a scegliere quale possibilità gli piaceva di più però attenzione non vi stiamo dicendo di dire guarda che è Uranus quindi no magari hai compreso male la situazione nel manga ma non lo è stato mai detto addirittura la chiama Mother Flame quindi attenzione a questi dettagli perché poi le persone che purtroppo parlano di One Piece ma non leggono One Piece si trovano influenzate dal sapere informazioni sbagliate solo perché qualcuno lo dice in un video ultima domanda manga più sottovalutato Zombie 100 assolutamente Zombie 100 sicuramente Zombie 100 ho detto Zombie 100 si leggetevi Zombie 100 e se qualcuno lo legge venga su Instagram oltre ad aspettare che Applebox domande mi segua giustamente e legga Zombie 100 e mi tagga e tagga anche la casa Jpop per fargli capire che qualcuno parla di Zombie 100 ciao ci vediamo ai prossimi miei video